Musica Oggi presentata ufficialmente questa edizione della Principessa Costanza, diciamo la verità, c'è una grandissima attesa per questa manifestazione, Presidente? Sì, c'è una grande attesa ed è per noi una grossa responsabilità ovviamente, stiamo lavorando per cercare di dare il giusto peso, la giusta risposta a quelle che sono le attese per questa manifestazione. Questa manifestazione che ha avuto oramai un grosso successo, ha un respiro io direi nazionale, non solo regionale, perché oggi è nel patrimonio della regione Campania. Questa manifestazione che ha colto l'aspetto storico, ha valorizzato le tradizioni della nostra storia, che non sono la storia soltanto della nostra città, perché questa è praticamente una rievocazione storica della famiglia Sanseverino, che ha avuto un ruolo importante non soltanto per Teggiano, ma nella storia d'Italia, nel regno di Napoli, nella storia d'Italia. E quindi abbiamo saputo cogliere, rievocando quelli che sono i momenti più importanti di questa famiglia, quelle che sono le tradizioni della nostra città, l'aspetto gastronomico, le bellezze storiche, artistiche, architettoniche, tutto si racchiude in queste serate e questa è la bellezza. E noi in questo venticinquesimo cerchiamo di ripercorrere i momenti salienti della nostra manifestazione. Abbiamo non a caso voluto introdurre e far partecipare nelle tre serate tutte e tre le principesse che si sono succedute nel corso della nostra storia, proprio per voler valorizzare il lavoro fatto, quello che ha significato per noi e per la nostra comunità. Questa festa che ha rappresentato non solo per Teggiano, dicevo, ma in maniera particolare per Teggiano, è diventata parte genetica del Teggianese. Questa è la ragione del nostro successo. Avevamo promesso anche un'altra piccola chicca, un'altra piccola anticipazione, diciamo qualcosa di nuovo sul corteo, perché avete studiato veramente una novità inedita per questi 25 anni. Sì, proprio riaggaggiandomi a quello che ho detto prima, che abbiamo sempre cercato di valorizzare gli aspetti storici della nostra storia, proprio nel corteo inseriremo la figura dei quintieri legata praticamente a quella che è l'aspetto religioso, cioè i quintieri che erano legati alle cinque parrocchie presenti a Teggiano saranno presenti nel corteo con lo stemma e con dei personaggi che rappresenteranno proprio il ruolo che ha avuto la Chiesa in questo contesto dei principi Sanseverino e nella storia proprio della nobiltà Teggianese. Un'altra domanda ricorrente, ma ci sarà l'assalto al castello? Sicuramente sì, sicuramente sì. L'assalto al castello che sarà però organizzato dalla Regione Campania al termine della nostra manifestazione, ma anche nel corso della nostra manifestazione, ci saranno anche degli anticipi della manifestazione dell'assalto al castello, che pur essendo organizzato dalla Regione Campania, sicuramente sarà uno stimolo importante per chi parteciperà alla nostra manifestazione e certamente arricchirà la nostra festa, non solo dal punto di vista scenografico, ma anche la qualità e il messaggio che questa manifestazione intende lanciare. Il sindaco Michele Di Candia, Teggiano, ancora una volta regina dell'estate in questo 2018, con questa chermessa alla tavola della principessa Costanza, siete in attesa di 20.000 persone in tre giorni, all'incirca questo è il traffico di visitatori che arriva a Teggiano in questa occasione. La cosa più bella è quella che una manifestazione di anno in anno è cresciuta sempre di più, è una manifestazione dove voglio ringraziare la Prologo per il volontariato che fa, grazie a questo volontariato la manifestazione è riuscita, ma soprattutto un ringraziamento va verso la Regione Campania, dove ha scommesso negli anni e ancora tutt'ora, ha scommesso nell'investitura di questa manifestazione, anche perché è una manifestazione che ha una caratura nazionale e perché no anche internazionale, anche perché basta vedere la partecipazione e la qualità dei turisti che arrivano. Poi c'è da dire un'altra cosa, che la manifestazione della principessa Costanza non è di Teggiano, è di tutto il territorio, basta guardare le presenze che sono sulle strutture ricettive, su tutto il territorio, sono tutti pieni, gli hotel e i ristoranti sono tutti pieni, quindi questo dimostra che abbiamo un patrimonio culturale. L'unica cosa non ci dobbiamo chiudere ai tre giorni per quando riguarda queste manifestazioni, bisogna fare un cartellone di regia con tutti i comuni, soprattutto i comuni che hanno gli attrattori, che possono offrire cultura, ma anche la presenza, creare un tour per etere del territorio, creare magari i turisti che vengono qua sui nostri territori e incominciano a restarci 5-6 giorni, perché altri territori non teniamo nulla da invidiare, anzi sono loro che ci dovrebbero invidiare per quello che è il patrimonio nostro culturale, architettonico che abbiamo. La Banca del Cilento di Sassana e Vallo di Diano e della Lucania diventa il principale partner di questa importantissima Kermess. Presidente Lucibello, ancora una dimostrazione della Banca del Cilento che investe sul territorio per manifestazioni importanti. Noi siamo qui grazie a questa manifestazione, noi la conosciamo da tanti di quegli anni e avevamo voglia di partecipare, di poter accompagnare questa bellissima tradizione che un poco richiama altri ideali, hanno una forte cultura e a noi ci ha attratto. Io ne sono innamorato da parecchio, l'ho seguita sempre su internet e mi ero proposto di poter chiedere a questa Proloco se era possibile avere uno sponsor da parte della nostra Banca. Ci tenevamo in un modo particolare perché secondo me bisogna partecipare con più sostanza, con più importanza perché è una manifestazione imponente che doveva essere trattata ancora meglio. Noi speriamo di riuscire a dare un contributo tale da poter farla crescere ancora di più ma c'è un gruppo organizzatore che è veramente alla portata, che è molto bravo e che è riuscita a far sì che questa manifestazione sia diventata addirittura internazionale. Quella della cultura è uno dei primi motivi ma poi c'è il motivo turistico per cui noi siamo molto impegnati su questo territorio a dare il massimo per dare la possibilità di far arrivare qua quando più gente è possibile. Questa manifestazione fa proprio questo e quindi va proprio al caso nostro. Concetta Maria Cantelmi invece è stata la prima principessa Costanza. Quest'anno è una data talmente importante, 25 anni di questa Kermesse, che sarai presente nella prima serata di questo evento. Che emozioni ci sono nel tuo cuore anche ricordando insomma tutte le volte che tu hai prestato il tuo volto alla principessa Costanza? Beh potrei dirti che sono passati talmente tanti anni che la memoria ormai facci lecca però sicuramente l'emozione di ritornare è tanta, è forte soprattutto per l'attaccamento al mio paese e quindi per rivivere di nuovo questa sensazione al di là del corteo, all'interno proprio del corteo in maniera insomma prendere parte in maniera concreta e ritornare su una situazione passata che però è stata sicuramente caratterizzante di momenti importanti per il paese, per il rilancio turistico che ha scaturito insomma questa manifestazione negli anni. Costanza è un... la nascita di Costanza un po' mi appartiene perché insomma l'ho vista nascere come manifestazione e crescere quindi la porto nel cuore e spero insomma di rivivere, di far rivivere a chi assisterà a questa manifestazione le stesse emozioni di allora. Cinzia Innelli è stato il volto della principessa Costanza negli ultimi anni quest'anno però 25esima edizione c'è un'atmosfera particolare per questa particolare edizione Cinzia? Sì quest'anno è un'edizione speciale, anzi eccezionale, in maniera più unica che rara saranno presenti tutte e tre le principesse che hanno rappresentato il volto hanno raffigurato il volto della principessa Costanza da Montefeltro come ogni anno è un'emozione che si rinnova, si rigenera ed è un sogno partecipare a questa manifestazione che implica una partecipazione non solo emotiva ma proprio sentimentale, è un po' come essere contagiati dalla favola della principessa Costanza e io dico sempre, i sogni aiutano a vivere meglio o la vita è un sogno? Per me partecipare a questa festa significa sognare e contagiare di emozioni e di sogni tutti coloro che intervengono e in particolare quest'anno l'atmosfera è più fiabbesca del solito. Presidente, non c'è altro da fare che lanciare a tutti l'invito per Principessa Costanza? Certamente, io spero che anche quest'anno sarete numerosi, anzi io mi auguro che sarete in tanti sarete in tanti e vi invito ad essere presenti perché sarà come sempre una gran bella manifestazione.